Il concerto di Mozart per flauto e arpa, quindi un doppio concerto per flauto e arpa, numero 299 del catalogo Kökkel, quindi K299, ha riferimento con il viaggio a Parigi, un importante viaggio che Mozart ha compiuto nel 1778, un viaggio in cui è andato 19-18 con la madre, mentre il padre invece era rimasto a Sarisburgo e lo incitava con lettere ad affrettarsi verso Parigi, appunto verso la capitale della musica dell'Europa di quegli anni e quindi del mondo. Ma sulla strada di Parigi c'era Mannheim, una città tedesca molto importante per la storia della musica perché era una sorta di laboratorio per la musica strumentale, aveva un'orchestra famosa, aveva strumentisti eccellenti e Mozart era diventato amico di molti di questi strumentisti ritraendone una quantità di spunti per le sue opere. Tra l'altro a Mannheim si era anche innamorato di Aloysia Weber e quindi è un periodo di grande crescenza, di grande maturazione per il suo genio. Finalmente arriva a Parigi, ma a Parigi ha poco riscontro ecco dalla grande capitale. Lui a Parigi c'era stato da bambino, bambino prodigio appunto, ma adesso era cresciuto, adesso era un giovane, era un ragazzo e quindi la società musicale francese pur interessata però era più distratta, era più attratta da altre cose. Per di più si aggiunge la disgrazia della morte improvvisa della madre che era lì con lui, per cui una maturazione violenta ecco viene in qualche modo a toccare la sua natura, ecco la sua carattere, la sua coscienza. Con tutto ciò questo concerto per flauto e arpa è una cosa completamente diversa, non sentiamo il minimo riflesso di queste avventure. È un concerto che rispecchia proprio l'immagine del Settecento Galante e tra l'altro gli venne commissionata, non è un pezzo che lui ha scritto di sua spontanea volontà ma come sempre succedeva in quest'epoca era un pezzo su commissione. La commissione, la richiesta di un concerto era venuta da un nobile francese, il duca de Guine, che era un eccellente flautista e aveva una figlia buona strumentista di arpa. E quindi erano due dilettanti, come si diceva, tutti e due allievi anche di Mozart, Mozart in quei mesi di Parigi aveva dato anche lezioni di musica. La categoria del dilettante in questo periodo è un po' diversa da quella a cui pensiamo oggi, oggi ci si riferisce a un appassionato che va ai concerti. Invece il dilettante di quest'epoca poteva essere anche un eccellente strumentista, come erano in questo caso. E' Mozart stesso che lo dice al padre in una lettera, dice suonano molto bene, sia l'arpista che il flautista sono eccellenti. Tra l'altro dice al padre anche che ho fornito questo concerto da quattro mesi al duca ma non mi ha ancora pagato, deve ancora pagarmi l'ordine che mi aveva richiesto. E' un pezzo questo dove viene fuori l'aspetto rococò che c'è anche in Mozart. Mozart non è solo rococò ma l'arte rococò, la leggerezza, il gusto francese, ecco ci sono anche e in questo concerto hanno una loro testimonianza. Il primo movimento è un allegro che ha un carattere un po' rigido, un po' impettito, un po' da soldatino nei primi movimenti, che si stempera naturalmente e diventa più sereno col gioco di imitazione tra flauto e arpa. L'arpa poi ha un suono così particolare che sta sempre un po' alonato, non ha la precisione del flauto e quindi si gioca molto su questa doppia natura, ecco il flauto preciso, lucente e l'arpa sempre un po' alonata ma fanno un assieme molto gradevole. L'arpa, il flauto poi ha una leggera preminenza nell'andantino che è il tempo lento che viene subito dopo con un carattere proprio di idilio musicale, ecco gli archi fanno da fondo e i due strumenti dialogano insieme. Il finale, il rondò finale, si apre con l'arpa sola che fa lei il primo tema ed è un ritmo questo di gavotta, altra danza come il minuetto tipica del Settecento. Quindi è un abbrano contenuto, condotto con infinita grazia, senza l'impegno che Mozart mette nei concerti suoi, cioè quelli nati per il pianoforte o come sarà il concerto per il clarinetto alla fine, quindi fatto con distacco ma naturalmente fatto con un tocco, con un'impostazione, un'abilità, una leggerezza di mano straordinaria. Grazie a tutti.